Quante volte noi sentiamo espressioni che disprezzano le donne? Quante volte abbiamo sentito, ma no, non fare nulla, cosse le donne. Ma guarda che, uomo e donna hanno la stessa dignità. E c'è nella storia, anche oggi, una schiavitù delle donne. Le donne non hanno le stesse opportunità. Le donne non hanno le stesse opportunità.